Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio parlarvi della nuova trend edition di Essence prima di iniziare sulle labbra ho il matitone rossetto di Puro Bio, il numero 16 questo qua l'ho messo nel video del progetto smaltimento makeup che vi lascio tra le schede inoltre volevo anche ricordarvi che nel mio canale è aperto un giveaway, anche questo ve lo lascio tra le schede e sarà aperto fino ai primi di settembre ma adesso partiamo subito con il video questa trend edition uscirà da metà settembre e sarà presente nei punti vendita fino a fine ottobre la trend edition si chiama Prime & Last Daily Diaries praticamente sono prodotti che permettono di mantenere un makeup a lungo nel tempo e questa trend edition è composta devo dire da molti prodotti molto interessanti intanto da un illuminante viso cotto che è veramente bellissimo il prezzo è di 3,79 euro e sarà presente una sola colorazione è una texture cotta, delicata e setuosa e dona al viso un look radioso e fresco ricco di accendi di luce un altro prodotto sarà sempre un primer però opacizzante in gel dal prezzo di 4,99 euro grazie alle agenti opacizzanti il primer gel crea la perfetta base per il makeup inoltre ci sarà un terzo primer che è il color balance in gocce questo qua dà il prezzo di 4,89 euro il primer in gocce offre una perfetta base per il makeup grazie al color verde che permette appunto di coprire le irregolarità e i rossori per un incarnato perfetto e anche questo prodotto devo dire che è molto interessante avremo anche un primer viso illuminante in gel da 4,99 euro il gel costituisce la base ideale per un makeup impeccabile e grazie alle particelle di luce riflettenti l'incarnato apparirà più ricco di luce e radioso avremo poi un blush viso cotto anche questo mi interessa tantissimo e spero di trovarlo in una sola colorazione e costerà 3,79 euro questo blush viene prima pressato e poi cotto ad altissime temperature per creare appunto una texture unica che dona agli zigomi delicati accenti rosati dall'effetto abbronzante quindi comunque è un colore abbastanza naturale dopodiché ci sarà anche una cipria fissante jumbo anche questa una sola colorazione 4,99 euro sarà il prezzo ed è una cipria dalla texture setosa che opacizza l'incarnato ed è indicata anche per sfumare blush e fondotinta applicata on top fissa il makeup per tutta la giornata e poi ci sarà anche una cipria viso illuminante in polvere 4,19 euro è una cipria ricca di pigmenti luce riflettenti che dona un incarnato levigato e luminoso e che dura per tutta la giornata quindi prodotti veramente molto interessanti poi ci saranno ovviamente le solite cartine rinfrescanti opacizzanti a 2,49 euro queste non mancano mai nelle collezioni di Essence sono veramente molto valide e quindi queste ve le consiglio poi ci sarà una maschera viso a 2,49 euro di quelle che crea le bolle questa spero di trovarla perché vorrei trovarla è una maschera che appena viene appoggiata sul viso rilascia delle piccole bollicine di ossigeno libera la pelle dalle cellule morte e dall'eccesso di sebo e rimuove anche le impurità quindi una maschera viso carina da provare poi ci sarà un nebulizzatore fissante opacizzante a 3,79 euro anche gli spray fissanti di Essence sono molto validi ho quello matte e mi piace veramente tanto e questo nebulizzatore posa delle particelle finissime sul make-up fissa a lungo e opacizza l'incarnato rendendo il make-up come appena applicato quindi anche questo è un prodotto molto interessante ed infine questo vorrei comprarlo se riesco a trovarlo il nebulizzatore con primer idratante viso 3,79 euro e dona un'idratazione perfetta un make-up accurato e quindi niente questo qua oltre a fissare il trucco idrata anche la pelle quindi veramente molto interessante questa sarà la nuova collezione di Essence io comunque vi lascio scritto giù nell'info box tutti i pezzi con i prezzi fatemi sapere cosa vorreste acquistare di questa collezione io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao